Gesù Cristo per giudicarci non aspetterà sino alla fine del mondo, ma giudicherà ciascuno subito dopo la morte. Nella parabola evangelica di Enrico Pulone e del povero Lazzaro, Gesù ci dice che il giusto e paziente mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, cioè nell'invo dei giusti. Anche l'enrico gaudente ed egoista morì e fu sepolto, nell'inferno in mezzo alle torture, revando gli occhi e veduto da lontano, Abramo e Lazzaro nel seno di lui, gridò implorando soccorso, ma in vano. Subito dopo la morte, tanto Enrico gaudente e peccatore quanto il povero e giusto Lazzaro furono posti nella condizione meritata con le loro opere. Uno fu castigato e l'altro premiato. Alla sentenza, che fissò la loro sorte, dovette precedere un giudizio o esame delle opere compiute in vita, giudizio che fu concluso con la sentenza. Dalla racconta evangelica ricaviamo che Gesù non aspetterà sino alla fine del mondo per giudicare gli uomini, ma giudicherà ciascuno subito dopo la morte, per assegnargli il premio o il castigo che si merita da vivo. Duplice è la meta, la vita e la morte, il premio e il castigo, e duplice la via, la verità e la giustizia, la menzogna e il peccato. Ciascuno di noi è in una delle due vie, verso l'una o l'altra meta, verso il premio o il castigo, che il divino giudice assegnerà a ciascuno secondo il merito. Ci sono due giudizi? Ci sono due giudizi, l'uno particolare di ciascun'anima subito dopo morte, l'altro universale di tutti gli uomini alla fine del mondo. Primo, ci sono due giudizi, l'uno particolare di ciascun'anima subito dopo la morte. Gesù Cristo ha descritto il giudizio particolare sotto il trasparente velo di una parabola. Un signore, prima di andarsi in un paese lontano, affidò a ciascuno dei suoi servi una somma di denaro da trafficare, per avere al suo ritorno il capitale e il frutto. Due servi trafficarono il denaro, lo fecero fruttificare, e al ritorno del padrone gli consegnarono il doppio di quanto avevano ricevuto. Un altro serve, invece, per giustificare la sua indolenza, sotterrò il denaro ricevuto per non perderlo. Al suo ritorno il padrone chiamò i servi al rendiconto. I primi due ebbero la lode e il premio del padrone, il terzo invece fu biasimato e severamente punito. Cristo è il padrone andato in cielo con l'ascensione. I servi siamo noi che abbiamo ricevuto doni naturali e soprannaturali, perché li traffichiamo e facciamo fruttificare per la gloria di Dio e per la salvezza nostra del prossimo. Tutto quello che abbiamo e siamo, lo abbiamo ricevuto, e Gesù Cristo ci chiamerà al rendiconto subito dopo la morte, nel giudizio particolare. Se avremmo fatto fruttificare i nostri doni e avremmo prodotto frutti di buone opere, saremmo premiati. Se invece avremmo usato male o trascurate i doni di Dio, saremmo puniti. La Chiesa, per bocca del Pontefice Benedetto XII, insegna che chi è perfettamente puro, subito dopo morte, è ammesso in cielo, vede la divina essenza con visione intuitiva e così è veramente beato. Invece le anime di coloro che muoiono in peccato mortale, subito dopo la morte e scendono all'inferno. Il Papa Eugenio IV insegna che coloro i quali veramente pentiti sono morti in grazia di Dio, prima di avere soddisfatto con degni frutti di penitenze e peccati di commissione e di omissione, dopo morte, sono puniti nelle pene del purgatorio. Prima di cevere il premio o il castigo, le anime devono essere giudicate nel giudizio particolare. Infatti, è facile a Dio rendere a ciascuno, secondo le opere, il giorno della morte. Secondo, l'altro universale di tutti gli uomini alla fine del mondo. Nostro Signore ha descritto dettagliatamente come i vaci colori il giudizio universale di tutti gli uomini risorti alla fine del mondo. Dopo che il giudice avrà pronunciato l'irrevocabile sentenza, che farà giustizia di tutto il bene e di tutto il male fatto da ciascuno e da tutti insieme, questi, i reprobi, andranno all'eterno supplizio e i giusti nella vita eterna. La Chiesa ha sempre ritenuto un domma fondamentale di fede, la seconda venuta di Cristo sulla terra, a giudicare i vivi e i morti. Il giudizio universale è necessario per stabilire la giustizia divina e farla trionfare davanti agli occhi di tutti gli uomini, per premiare pubblicamente i buoni, che su questa terra sono spesso conculcati, oppressi, derisi. Punire i cattivi, che sulla terra spesso trionfano e sembrano la negazione vivente della provvidenza e della divina giustizia, per glorificare Cristo e i suoi eletti e sconfiggere definitivamente il demonio e i suoi seguaci, che ora dominano il mondo.